ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi andiamo avanti con i significati della sibilla gitana quindi vediamo la carta 5 6 7 e 8 cominciamo subito con la carta numero 5 che è questa ve la faccio vedere bene sperando che riusciate a vederla abbastanza in primo piano la carta numero 5 è l'allegria qui vediamo quattro persone abbastanza giovani che sembrano fare baldori insomma quindi questa è un po la carta il significato è riunione festiva tra amici e familiari quindi un clima allegro successo in un'impresa piaceri mondani però dall'altra parte ci possono essere anche degli eccessi quindi si esagera in qualche cosa e questo potrebbe causare dei possibili problemi e ovviamente bisogna sempre vedere con cosa si associa la carta la carta numero 6 la tristezza vediamo una donna elegante con un bellissimo vestito bordeaux che è appoggiata a un tavolo seduta e con un fazzoletto in mano quindi è chiaramente triste sembra che stia piangendo per qualche motivo il significato di questa carta però nonostante il nome che può sembrare negativo in realtà non è così negativo perché significa che le lacrime stanno per finire ci sono stati dei problemi dei problemi gravi che hanno fatto soffrire ma ci si sta avvicinando ad una soluzione quindi si sta per trovare la strada per uscire da questi problemi quindi indica chiaramente uno stato di sofferenza una malinconia speranze deluse il cuore che comunque sta soffrendo ma si sta per vedere quale strada intraprendere per risolvere i problemi quindi è una carta alla fine di speranza perché le cose stanno per andare meglio la carta numero 7 è la dama qui vediamo una donna elegante che ha in mano una rosa un bellissimo vestito è all'aperto vediamo una montagna alle sue spalle probabilmente vicino ad una casa comunque c'è un muro c'è qualche cosa ed è una donna veramente sofisticata il significato di questa carta è che c'è vicino a noi una donna autoritaria che però è gentile da dei consigli molto saggi degli aiuti decisivi dall'altra parte però potrebbero esserci degli aspetti del suo carattere che la rendono un pochino frivola un po volubile un po superba e i consigli che da a volte non sono sempre così saggi quindi se la carta vicino non è positiva i consigli anziché saggi potrebbero essere anche a volte sbagliati quindi bisogna sempre fare attenzione da quale fonte arrivano i consigli appunto però diciamo che in generale è una donna che nonostante le sue apparenze un po così poi è abbastanza gentile comunque ci aiuta ci vuole dare dei consigli purtroppo non sempre i suoi consigli sono giusti ma a seconda della carta che c'è vicino dobbiamo fare attenzione perché invece potrebbero essere saggi consigli questo riusciamo a vederlo solo dalle carte che ci sono vicino la carta numero 8 è il gatto qui vediamo un gatto un gatto che ha delle proporzioni un po particolari perché sembra grande quanto una casa e ai piedi del gatto c'è qualche cosa di indefinito perché non si capisce bene se è cibo se è una preda se è qualcos'altro insomma quindi vediamo appunto questa figura con questo gatto questa carta significa astuzia raffinata una persona dotata di forte magnetismo attrazione tra due persone attrazione fisica questa attrazione a volte può provocare del turbamento interiore ci possono essere degli ostacoli delle trappole e delle persone non troppo sincere queste sono le quattro carte che abbiamo visto oggi io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme